Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come sapete il governo italiano ha presentato alla Commissione europea il proprio piano di investimenti all'interno di quello schema che è definito Recovery Fund, delle risorse stanziate a livello europeo, emettendo per la prima volta del debito comune con l'obiettivo di facilitare la ripresa dei sistemi economici e sociali dopo ovviamente l'aggravamento della situazione conseguente all'epidemia del Covid e soprattutto alla strategia di lockdown attuata dai vari stati che ha di fatto inchiodato il sistema economico. C'è una fortissima attesa sul Recovery Fund perché come sapete si tratta di oltre 200 miliardi di euro che verranno messi a disposizione nel nostro paese per essere spesi. Ecco qui possiamo fare direi tre considerazioni senza neppure entrare nel merito più di tanto. Una considerazione di metodo, una di obiettivi del piano e una di mezzi. Considerazione di metodo è che le strategie sono assolutamente accentrate quindi esiste una cabina di regia fortemente accentrata in Europa che corrisponde a una cabina di regia attrettanto accentrata nel nostro paese. Questo significa che si è scelto un metodo di registrico per guidare i sistemi economici e sociali verso una prospettiva che si ritiene ex ante desiderabile. È chiaro che questo rappresenta già un problema perché se volete va contro lo spirito della libertà di iniziativa privata, presuppone che ci sia un qualcuno che ha più informazioni di tutti e che quindi è in grado di fare le scelte giuste per tutti ma sappiamo e la storia economica ce lo insegna che non esiste mai un pianificatore che ha una visione perfetta di tutte le conseguenze possibili delle sue azioni. Quindi anche la persona più competente, il comitato tecnico più esperto non può ex ante decidere in modo efficiente ed efficace l'allocazione delle risorse. Quindi questa pretesa che manca sicuramente di umiltà è particolarmente pericolosa perché poi si rischia di ottenere degli esiti esattamente opposti rispetto a quelli desiderati ex ante. Per di più anche ex post non ci sarà la possibilità di fare un bilancio di quanto queste politiche sono state efficaci perché si vedranno certamente gli esiti di quanto verrà fatto ma non si vedranno ovviamente le cose che si sarebbero potute fare se queste risorse fossero state lasciate ai privati e non gestite in modo centrato dalla classe politica. Quindi questo per quanto riguarda il metodo, un metodo particolarmente pericoloso e a livello di obiettivi sicuramente vediamo molti obiettivi condivisibili come la svolta digitale, tecnologica, però alcuni sono viziati da un contenuto ideologico. Basti citare tutto questo progetto di decarbonizzazione dell'economia europea entro il 2050 che parte dal presupposto che esiste un riscaldamento globale, che questo è di origine antropica e che quindi agendo in questo modo sicuramente si salverà il pianeta. Ecco se si salverà il pianeta non lo sappiamo al momento ma di certo verranno spese risorse immense dei contribuenti per incentivare alcuni settori a scapito di altri e quindi sicuramente si attuerà una falsificazione della concorrenza che dovrebbe essere libera e leale. Quindi anche con le migliori intenzioni si rischiano di fare degli errori molto pesanti. A livello poi di mezzi sappiamo che i piani sono finanziati dal debito comune e probabilmente questo è un po' il primo passo per andare verso una sorta di ministero del tesoro comunitario. Lo stesso Draghi l'aveva detto al meeting di Rimini dell'agosto del 2020, dello scorso anno, e quindi sembra che si vada verso una governance sempre più accentrata in cui gli stati pur facendo un passo in avanti rispetto alle proprie società al tempo stesso fanno un passo indietro rispetto a una governance che è sempre più europea. Quindi se volete si va verso una prospettiva opposta a quella della sussidiarietà, si va verso un accentramento delle decisioni e delle risorse a livello sempre più alto, quindi verso cabine di regia sempre più alte. Tutto ciò ricorda sicuramente la prospettiva del grande Reset di cui sicuramente avete sentito parlare e a cui dedicheremo sicuramente una pillola perché è un tema che vale la pena approfondire. Grazie. Grazie.